Ciao ragazzi, finalmente l'altro giorno al D23 hanno presentato il primo teaser trailer della serie di Percy Jackson che la Disney appunto sta producendo in questi giorni. Sono molto molto curioso perché sapete bene cosa ne penso del primo adattamento di Percy Jackson, i film sono stati un po' una merda, a sto giro dietro c'è lo stesso Riordan, il creatore, lo scrittore della serie, quindi questo mi fa sperare un po' meglio. Sa, vediamo un po'. Uh, il campo mezzosangue. Mi piace la sua voce. Immagino che sia Percy che parla. Maglietta! Bellini! Eccolo! Uh, la casa di Poseidone. Super carino, super carino. È un teaserino però, devo dire che è interessante. Allora, ovviamente Percy parla dell'essere mezzosangue e il solito discorso del una volta che vai qui non si torna indietro, ti ha avvertito, bla bla bla. Qua lo vediamo che si prepara lo zaino, molto molto carino. Vevo vedere questo. Qua siamo già al campo mezzosangue immersi nella natura. Mi piace il dettaglio della maglia, ovviamente. C'è un gufo. C'è un gufo. Immagino che stia a rappresentare Atena, perché se non ricordo male il gufo dovrebbe essere uno degli animali di Atena, quindi ci sta che Atena appunto stia un po' a guardarlo. Cioè, magari non è detto che sia effettivamente lei. È soltanto un simbolismo, magari soltanto un gufo del cazzo. Però, comunque interessante scelta fra tutte le creature. Che, tra l'altro, se non ricordo male, credo che questa potrebbe essere l'introduzione che era nel libro. Cioè, questa frase che lui dice, dimentica qualsiasi cosa, credi a qualsiasi cosa ti hanno detto i tuoi genitori sulla tua nascita, anche se tu hai i due per dire... Forse era la frase con cui si apriva il libro, adesso non mi ricordo, è un po' che non lo leggo. Comunque, lei credo che dovrebbe essere Annabeth, perché mi sembra che l'attrice fosse lei. Potrebbe essere Clarisse, oddio, aspetta, devo andare a cercarmi un attimo l'attrice. Ok, no, ho cercato, questa dovrebbe essere Clarisse. Ok, in effetti c'è anche l'armatura un po' di Ares, però, beh, mi era venuto il dubbio adesso, non mi ricordavo se avevano tutti la stessa armatura o erano diverse. Allora, io dico una cosa per il casting di Clarisse, che è quello che dissi anche nel film originale. Clarisse veniva descritta in un determinato modo nel libro, e non è una questione sul cuore e la pelle, quello non me ne frega, anche Annabeth qui hanno preso un'attrice afroamericana, quello è il meno, chissà ne frega, non me ne frega nulla. Però la questione è che, però la questione è che Clarisse l'hanno sempre descritta comunque come non di bella presenza, perché era questa ragazza appunto anche molto robusta, veniva descritta anche un po' bruttina e tutto quanto. Certo, è uno stereotipo della bulla, però, cioè, è un personaggio, nel senso, io avrei sempre, io continuo ad aspettare una Clarisse che sia un'effettiva donnona forte, e che poi magari loro possono anche andare appunto a caratterizzare in maniera diversa, non deve per forza essere uno stereotipo negativo. Il fatto che prendano comunque sempre queste attrici mingerline di bella presenza, a me fa un po' storcere il naso, e l'aveva fatto anche nel primo adattamento. Poi o magari l'attrice è bravissima e tutto quanto, questo non lo metto in dubbio, diciamo che avrei preferito un aspetto leggermente diverso. Questo design mi piace perché è molto semplice ma realistico. Loro sono lì con i loro jeans, le loro magliette, ma hanno anche l'armatura per le loro esercitazioni. Funziona, funziona alla perfezione, questa cosa mi piace molto. Questo è il momento appunto in cui, immagino, Percy arriva al campo mezzosangue, li vediamo. Oddio, c'è una lira, la lira è la casa di... che suona la lira? Porca miseria, non mi ricordo niente della mitologia greca. Apollo dovrebbe essere che suona la lira, mi sembra. Questa qui non so cosa sia, vedo... forse è Festo? Ma forse è Are? Vedo un elmo, non so se è la casa di Ares, però a giudicare dall'elmo e da quella che sembrano delle lance penso che sia la casa di Ares. Qua ci sono anche dei cavalli che si scontrano, sì, non mi sa molto di casa di Festo. E questo ovviamente è la casa di Posidone. E sono stracontento perché le case sono come me le immaginavo effettivamente. Una cosa che non mi era piaciuta per niente, di come l'avano reso nel film, nei due film, è che sembravano più dei... non lo so, delle tende, delle case un po' moderne. Invece no, deve essere così. Sì, una casa leggermente più moderna, perché sì, c'è il porticato e tutto quanto, la porta, però con gli elementi architettonici dell'antica Grecia, come in questo caso le colonne. Così è veramente, veramente fantastica. Cioè l'atmosfera già da queste primissime immagini, anche la musica che non è male, ci sta tutta. Cioè nel vedere questa scena io dico, ok sì, è Percy Jackson che è arrivato al campo mezzosangue e sta per entrare nella casa di suo padre per la prima volta. E poi abbiamo questa ultima immagine di lui sotto la pioggia, probabilmente nella tempesta. Vedo dei fulmini, quindi potrebbe essere forse il momento in cui incontra Zeus per la prima volta. Dato che sono i fulmini, cioè in realtà potrebbe essere qualsiasi scena. Ma sono molto incuriosito. Però per me la cosa più importante di tutto, il cambiamento più importante rispetto ai film vecchi è che qui Percy ha l'età giusta. Qui è un dodicenne, o comunque uno che ci assomiglia a un dodicenne. Logan Lerman, per tutto quanto quello che si può dire, per me non è stato un buon Percy. Perché era già troppo avanti con l'età, era un Percy già fin troppo adolescente. Era un più un Percy che assomigliava a quello degli ultimi libri più che del primo. Mentre invece qua possiamo vedere gli attori crescere. Cosa stra-importante, perché è una cosa che abbiamo visto di continuo. Veder crescere gli attori e veder crescere i personaggi aiuta notevolmente ad affezionarti a quest'ultimi. Guarda quello che è successo con Harry Potter, guarda quello che è successo con Stranger Things. Ed è palese che loro vogliono spingere in quella direzione. Disney assolutamente vuole che questa sia la sua serie per ragazzi per fare concorrenza a quelle delle altre major. E secondo me possono tranquillamente riuscirci se non si perdono per strada. Ripeto, il fatto che ci sia Riordan dietro a tutto mi tranquillizza enormemente. I film sono sempre difficili da adattare. Percy Jackson è uscito in un periodo in cui anche gli adattamenti dei film tratti dai libri per ragazzi non erano sempre al massimo. A volte uscivano delle ciofeche assurde perché tutti provano ad essere in Novo Harry Potter e cambiare un po' la formula. Il fatto che qui abbiano una serie che andrà divisa in più stagioni, che hanno tutto il tempo necessario per raccontarti tutte le vicende e anche di più. Perché comunque i libri di Percy Jackson non sono lunghi a livello proprio di parole, a livello proprio di battute e di vicende. Sono relativamente corti. Non so come sarà adesso se ogni stagione sarà un libro o sarà diviso diversamente. Però sicuramente andranno ad aggiungere cose extra, ad anche inventarsi certe cose. E va benissimo così perché potremmo espandere ed esplorare l'universo di Percy Jackson, il Riordanverse come viene chiamato. Probabilmente anche andando a prendere da altri libri altre cose dato che Riordan ha espanso tantissimo la mitologia. Io ho letto solo i cinque libri principali di Percy Jackson, non ho letto il resto. Però potrebbe essere la volta buona che mi butto anche sulle sfide di Apollo, no? Questa casca si chiamava. Vabbè, la serie successiva, quella sequel. Per ora ragazzi devo dire che sono super super soddisfatto. Aspettiamo il trailer completo, ma per adesso quello che ho visto mi ha tranquillizzato tantissimo. Quindi c'è un discreto hype. Ditemi anche voi cosa ne pensate nei commenti. Ditemi se ho azzeccato le chiase, ma penso proprio di non averle azzeccate. E per il resto noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie per la visione!